Eccolo qua con la maglia numero... Eeeh, benvenuti ragazzi, benvenuti, questo è un nuovo video, io sono Samu, Y7G09 E oggi ragazzi sono qui per fare la live reaction del secondo tempo, perché il primo me lo sono scordato Nel secondo tempo di Genua, di Genua-Bologna Che stiamo vincendo 1-0 Un gol di Zayt, c'è un po' alla fine E oggi come c'è un ospite, Matti Saluta, Matti Maglietta rosso-blu, raga, e si va, è intanto il secondo tempo Eeeh, speriamo bene ragazzi, speriamo bene, speriamo bene E ci vediamo dopo un'azione bella Per chi non lo sapesse, raga, sto registrando dal telefono e quindi ce l'ho scarico ovviamente Intanto, otto, volo, la fragona Oh, non lo so, tanto, meno male, meno male, raga, stavo facendo una cosa e stavo segnando in Bologna Perfetto, è fatto male uno, bella Raga, stiamo fermi su quadri che si è fatto male Vignato 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 Ikei Ikei Con lo scontro con Steve Il cazzo è Dice round da primavera, raga Sono ben in 2001, come stente da Balardini Tutto che è anche Sinesa Mijajovic E Panchina Approfitto per farvi dirvi questa cosa da Matti Panchina c'è a Matti, l'onitente d'Undra, Pano, difensore centrale Comunque, raga, devo dirvi che Balardini deve avere due palle così per far giocare Radomano vice difensore centrale Vignato V哥, vabbè, l'rund this game Il Bologna Vignato Vignato iat in attacco Vip 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 Dai Dicione Cazzo Porco Tuo non posso desegnare perché sennò mi becco la denuncia da youtube e vabbè dai occhio occhio matona santa dai ragazzi c'è stato ghiglione raga lento più di sliver sliver stai sottolineare stai andando malissimo di merda arrivate ghiglione dai cazzo dai dai ghiglione veloce dai yango pallo dai dai ma che zaic bel 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 zaic guardano che fuorigioco guardano che fuorigioco al piede davanti sul primo sul primo palo sta andando shomunodop palla profonda di zaic mischia colpo di castrato non di molto ha cercato la previsione vabbè 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 dai ragazzi ok ok raga chiudete 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 occhio dai bravo masiello prendila prendila dai eldor non è fallo è campo di merda dai passate occhio raga chiudete 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 dai dai ancora dai ancora dai destro dai dentro grande destro guardalo 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 sei casato bravo destro destro raga top player del genuo a destro dai raga comunque raga vi ricordo di iscrivervi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun altro video di videogio di videogiochi del genuo di tutto di tutto raga e record 100 iscritti faccio uno speciale quindi raga iscrivetevi tutti lasciate like raga a questo 5 lai che prossima reazione del genuo alla prossima partita che è contro non trovato nanta quindi andrà già peggio quindi però raga dai 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 arriva destro è solo destro 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 2 2 2 destro 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 è solo 2 è solo 2 è solo 2 Mattia Mattia destro 2 a 0 Mattia destro Sì Sì Destro Oddio Destro Destro Sì Sì Batti a destro 2-0 Balardini sempre qua Balardini sempre qua Sempre qua Qua Dai ancora Facciamo il terzo Facciamo il terzo Zappa Dai Zaich Corri Super la faccia No 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 Che c'è niente Quando è tanto È spavolato Mi capo di Bologna Dai Dai Bravo Balardini Mi chiamano Balardini sempre qua La centrocampo Ancora una volta Balardini che gira su se stesso Dai Zappa Dai Zappa Allarga Pallone per Iangon Adesso tutti i ricomenti Destro fenomeno Alla raga Destro fenomeno Alla raga Occhio vignato Occhio a questo Occhio a questo Alla raga Alla raga Dove è finito Orsolini Occhio a destra Con Orsolini Bello Assista Occhio a bravo Rado Rado Vanno 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 Destro anche in difesa Destro Difessore E fallo Destro top player Destro Destro Prende falli Destro centrocampico Raga tutto con destro Inventatevi tutto con destro Hashtag destro Adesso Entra bar Rado Veloce Potenzialità Potenzialità Veloce Però raga Noi abbiamo rado Noi abbiamo rado Non lo dobbiamo tenere Dovremmo mettere Un difensore Perché è veloce Ha un bel bene E devo stare attenti Allora Noi abbiamo rado Noi abbiamo rado Bani Maviello Ci manca Zapata E stiamo là Non è pena Merda Barro Eh Vincchia Dai fischia sto panello E fallo Come non è pano Rimesso laterale Per il Bologna Incazio Io che vuole Le parlo Facevo lo scatto A lui Io facevo lo scatto E andavo in polsio Bani lo conosce 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 Bravo Bani Caccio l'angolo Caccio l'angolo Adesso O rigaccio Il bani lo conosce Il bani lo conosce E il dad E il dad Qua Anche qua Sui primo palo Sui primo palo Siamo A un bullone Sembrava 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 Un giro il raccadino Soriano tirava Dai Muoviti Steve Steve Sì, io l'ho chiamato Sidney Riga, dicesi nei commenti come si pronuncia Perché... Steve, Bong, Ignaco Riga, tutti i nomi usiamo Riga, altra posizione per il Bologna La vedo... Non bene Non la vedo bene Riga, è passata un'ora Di gioco Occhio Riga, un'ora di gioco Dai, Eldor, dai, Eldor Riga, conto i piedi a Genova, non c'è nessuno Dai, Eldor Dai, Eldor Storiano pure indipendente deve essere Ricordiamo, Raga, che noi Non vinciamo un caso Dalla prima Non vinciamo un caso Dalla prima partita Solo col Crocone abbiamo vinto in campionato Riga, io non la vorrei fare Però, cioè Vedendola così, stiamo giocando bene Tegliato questo risultato Anzi, facciamo dei gol Io ho paura che... Occhio Fuori gioco Occhio Ma che zappa Zappa Occhio Fariamo... Badel Comunque si trottamano al Genoa, raga Si trottamano al Genoa Lunedì arriva in città Riga, bel colpo comunque A centricampo Speriamo che faccia il giusto Medici che... Grazie Eh, fallo Non c'è fallo, adesso sì Fallo Fischia doveri Sulla stessa fase di competenza Dai, dai È nostra, è nostra È nostra È nostra È nostra È nostra È nostra Ma no Come loro Ma no Ma no Riga, lì facciamo il terzo La bianchiude Che diceva ancora la zappa costa Vai dietro Girala Va bene Ah Va bene Dai, dai Dai, dai Raga Allora 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 Stanno rinvenendo Le ultimissime della classifica Masiello L'apertura su zappa costa 50 like Lotta Orsolini Vediamo chi ha toccato per ultimo Ha toccato il giocatore del Bologna Rivessa Genoa Zappa costa Eh, la vedo difficile 50 like Perché io sono uno da due iscritti Cioè, da Da 50 iscritti Zaici 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 Zappacosta Area di Ligone per lui Cerca spazio contro Tomiasu Lo scarico al limite Pa Del E allora Cerca Adesso di controviede subito Vignato Si avvicina su Palazzo Si gira Aspetta rinforzi Già partito Orsolini Apre un canale Buona chance per il Bologna Da chi nega Tutti like Così almeno Vi possiamo fare un canale YouTube Mestiere Radovanovic che lo trattiene un po' Si beccia un movimento intorno alla pantina di Percadini Che sta preparando un altro cambio No Sta preparando il terzo cambio il Genoa No, non è capitale No, non è capitale Vabbè Lasciamo stare questo discorso, raga Vi ricordo di lasciare tanti like Perché al 50 like è cosa molto impossibile Si apre un canale, quindi Cosa c'è qui Regala Aspettate Dotto che è crescito Occhio E' scappato Aspetta Aspetta Che scappa dal campo Aspetta Che scappa dal campo Che è troppo profondo Prega Comunque Quali punti la Bologna preso da Perin siamo al settantesimo più o meno 20 minuti per recupero non ce la possiamo fare secondo me secondo me Esce destro ha fatto una bella partita per Oess ed entra Scamacca per chiudere vi dico solo questo Occhio a Bologna perché di questa anno dobbiamo stare in serie A ma proprio serie a serie Occhio una volta in serie A tutto non voglio fare il panino vabbè grande lato Occhio barro si chi riesce mettete l'hashtag e vediamo se arriva la notizia della pandemia se arriviamo a 20 like nel prossimo episodio che farò farò la challenge che sarebbe scrivo a 100 persone 50 persone famose su Instagram quindi se volete quel video 20 like nel prossimo episodio quindi voglio il casino su questo video e su quello dopo quindi siamo in casino vi dico solo questo in casino Occhio a Bologna Occhio Occhio a Barro bravo Steve Steve tutte quelle così occhio a Bologna Occhio a Bologna Occhio a Bologna Occhio a Bologna il miglior il miglior in campo del Veno anche va bene del Bologna della partita quindi scrivetelo tutti tutti quelli che vedete il video almeno quello e intanto qua c'è il Bologna che attacca e speriamo che non fanno gol allora se sei da Palacio o Let's mi faccio biondo ero già biondo però mi rifaccio di nuovo sempre Bologna cattore del Bologna in attesa del pallone di Lugano cattore del Bologna stiamo un po' soffrendo però cioè ci stiamo così in difesa e comunque ci sta da Shuburdo scatta scatta Shuburdo mi sto sorprendendo all'inizio era è un po' flop ma perché si doveva un po' ambientare ora sta diventando molto molto bello da vedere Ghiglione Ghiglione cross interessante in aria cazzo e Zaito non è altissimo dai Zappa dai Zappa dai Zappa dai Zappa non torniamo indietro Rigavocchio Ghiglione lontana occhio Rigavocchio Bologna Soriano Perin andiamo matti due cambi raga che per allora uno per il Bologna e penso l'altro per il Genos cazzo per il Bologna è uscito cosa? è uscito 958 santano mix la pittu vuol dire dunque riga non ho ancora capito perché ha fatto uscire Steve che era appena entrato nel secondo tempo ci sarà fatto male ci sarà fatto male andiamo a vedere sul telefono un attimo perché qua non si fa capire niente è regalo che ho il Bologna si che si fa capire ma vuole un Bologna non mi dire andiamo a bordo capo lo ha Riccardo no non sembra non sembra allora ho fatto entrare all'inizio del secondo tempo questo è Bologna Steve con la in quello 19enne e ora l'ha fatto uscire al giocatore cioè non ci sta capendo di niente raga dai Zaij lo rallentiamo dai 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 ve lo dicimi ragazzi se state sentendo perché non lo so perché ho restato registrato quindi non so se si sente ma che fallo è ma va bravo ma si per la ma si è lo non la potete oh 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 va bene è fermato da Antonia Azu destro di mestiere fa carambolare il pallone addosso al passo rimesso per il giocatore per il momento annaccio di mestiere di mestiere ma adosso al passo rimesso